Benvenuti a una nuova puntata di Bozze Forum, e diamo il nostro benvenuto virtuale a Marco Bugiardino, ben ritrovato, candidato alle prossime elezioni regionali di FIB Lombardia. Grazie Deborah per l'invito, grazie mille. Appunto, ci siamo sentiti qualche settimana fa, ormai invece le elezioni sono veramente molto vicine, quindi andiamo subito al dunque, che cosa pensi di queste elezioni e quali sono ovviamente le priorità per la Lombardia? Ma guarda, per la Lombardia, ritornando un po' a quello che avevo detto l'altra volta, dobbiamo ricominciare a portare la gente a giocare alle bocce, a far vivere i bocciodromi, a far vivere le bocciofile, a far vivere i bar, che comunque in parte finanziano spesso le attività, le care. Per fare questo noi contiamo, nel caso che dovessimo essere eletti, di vivere il gioco delle bocce in modo veramente con grande presenza, cioè noi non vogliamo essere un gruppo che sta in ufficio chiuso dietro a una scrivania, ma vogliamo vivere il mondo delle bocce, vogliamo essere il gruppo di tutti, io sarò il presidente di tutti, quindi chiunque potrà chiamarmi e parlare, dialogare, chiedermi, discutere, faremo dei gruppi di lavoro. Io ho già contattato anche alcune giocatrici per creare un gruppo femminile che mi dia una mano a mettere giù quelle che sono le problematiche e i miglioramenti che c'è da portare nel mondo femminile, lui e lei, gare individuali, gare a coppie, lui e lei, lui. Insomma, l'importante è riportare le donne a giocare, anche quelle che si sono un po' perse, perché le donne sono un grande veicolo. Sicuramente faremo uno studio anche per il discorso paralimpico, ma non tanto per mandare i ragazzi alle Olimpiadi. Per me il fatto di far giocare e avvicinare le bocce persone che hanno avuto meno fortuna di noi è un modo per vivere con loro, imparare da loro, perché hanno tanto da insegnarci, hanno una grande tenacia in tutto ciò che fanno, e loro imparare qualcosa da noi. Deve essere un posto dove loro vengono per divertirsi, per rasserenarsi, per vivere meno la loro condizione, magari prendere anche qualche medicina in meno. Insomma, deve essere anche una forma curativa il gioco delle bocce. Poi ci sono le Olimpiadi, ci sono le televisioni, ma secondo me queste persone hanno bisogno di vedere che i normodotati, come poi veniamo giudicati noi, in realtà abbiamo molto bisogno di loro. L'altra cosa importante, importantissima, secondo me, è quella di riuscire a riportare il gioco delle bocce in una realtà che sia visibile a tutti. Quindi, torno a ripeterlo, campi all'aperto, campi semicoperti, parlare con le amministrazioni per poter fare delle attività magari nelle piazze, durante delle sagre di paese, in modo che la gente veda le bocce. Se no, noi siamo chiusi in un bocciodromo. Una volta si giocava otto mesi all'aperto e quattro mesi al coperto. Adesso si gioca dodici mesi al coperto. Non ci vede più nessuno. Se noi ritorniamo a farci vedere. Il gioco delle bocce è bellissimo. È veramente uno sport che, quando uno vede le bocce girare, si ferma e guarda. È inevitabile. Noi abbiamo pensato anche di sviluppare anche la petanca e il volo in Lombardia. E l'altra cosa che ci tengo molto è che ci sono delle attività di ristrutturazione di alcuni bocciodromi messi in piedi dal Consorzio per la Lombardia, che per noi è fondamentale, che nel caso dovessimo vincere noi, queste attività andranno avanti. Non che se vinciamo noi, quello che ha fatto magari la scelta dell'altro gruppo verrà, come dire, cassata, come si suol dire in gerbo. Assolutamente no. Noi vogliamo aprire i bocciodromi, li vogliamo migliorare, non li vogliamo chiudere. Io poi che vivo il gioco delle bocce, gioco a bocce da sempre, io le conosco le realtà che sono in difficoltà, ma parlerò con tutti i presidenti. Voglio sapere, tramite un censimento, quali sono i problemi di ogni vociofila. cercheremo di risolvere quelle, diciamo, maggiori, ma dobbiamo creare un gruppo che lavora tutto insieme. Noi non è che siamo la regione Lombardia e sotto di noi ci sono gli altri. No, siamo tutti giocatori di bocce. L'altra cosa io vorrei, magari tramite Rete55 o altri canali dove magari voi non avete copertura, fare in modo che la TV si interessi alle bocce. La TV arriva dovunque. Gli sponsor arrivano se la TV mostra uno sport, ma se noi andiamo solo in streaming, sullo streaming è come domani che ci sarà il campionato, ci va chissà che esiste lo streaming delle bocce. Permettimi l'ultima cosa, noi vogliamo collaborare con la federazione, noi vogliamo dialogare con la federazione. Abbiamo bisogno di De Santis, abbiamo bisogno della federazione, però vogliamo essere una voce che si fa ascoltare, vogliamo essere una voce che dice la sua, perché siamo una regione importante, la più importante come numero di società, come numero di giocatori, come numero di gare. Qualcuno questo lo deve tenere a mente. Noi vogliamo collaborare, vogliamo lavorare. Permettimi l'ultima cosa, per fare questo abbiamo bisogno che i presidenti vengano a votare. Abbiamo bisogno che la democrazia vinca, le elezioni sono importanti, si può non venire delegare. Ok, lo possiamo fare anche noi. Io non sono uno troppo per la delega, io sono uno che ama le persone che vengono, votano e se ne vanno, ma esprimono la loro opinione. Questa è democrazia. Però è importante che la gente venga a votare, perché questo è il momento in cui la gente che ha sempre detto che voleva il cambiamento, può fare il cambiamento. Se non fanno questo, allora vuol dire che forse del cambiamento non gliene frega niente. Ma non è quello che io sento quando vado nei bocciadroni. Certo, insomma, io ti faccio l'imbocca al lupo per questa avventura, sperando che veramente possa accadere tutto questo, cioè che da un lato le persone vengano a votare, che dall'altro lato si possa ripartire anche dando voce a ogni settore, dalle donne ai giovani, all'ambito dei disabili paralinti. I giovani sono fondamentali, i giovani sono il nostro motore, quindi quelli non li abbandoneremo mai assolutamente. Certo. Bene, quindi in bocca al lupo e in caso appunto di vittoria ci risentiremo sicuramente molto presto per parlare a questo punto di obiettivi più concreti da mettere in atto sul territorio. Grazie Deborah, come sempre per l'invito. Grazie mille. Grazie. Grazie. Grazie anche a voi da casa. Ora una breve sigla e poi ritorniamo in studio con un altro ospite. A tra poco. Ben rientrati in trasmissione, come vi dicevo poco fa, una puntata doppia. Abbiamo infatti ora un nuovo ospite insieme a noi, Costantino Faedda. Benvenuto, ben ritrovato. Buonasera Deborah, buonasera a tutti gli amanti di questo straordinario sport. Continuiamo a parlare ovviamente di bocce e di elezioni, proprio perché poco fa abbiamo sentito Bugiardino che è appunto a capo dell'altra lista in corsa per le elezioni regionali. A questo punto ci occupiamo invece della lista guidata da Moreno Volpi. Tu sei in lista con Moreno Volpi per queste regionali. Partiamo proprio da qui. Che cosa serve alla Lombardia per ripartire dal punto di vista boccistico soprattutto in un momento difficile come questo? Guarda, il commissario straordinario che è anche candidato alla presidenza della regione Lombardia più di un anno fa quando mi ha fatto la proposta di collaborare con la regione Lombardia e di decidere proprio questa candidatura io non ho esitato neanche un secondo. Ti spiego anche il motivo. Perché ho notato che stava creando veramente un gruppo determinato e competente. E allora la competenza è scatturita da che cosa? Dalla conoscenza. Da un'elevata conoscenza della materia che comunque non è così semplice. Se infatti vedi i nostri candidati sono all'altezza della situazione. E quello mi ha dato subito una grande motivazione. ecco. Certo con Moreno Volpi settimana scorsa dicevamo sarà importante navigare a vista cioè passo dopo passo capire cosa fare anche per far fronte a una pandemia che ovviamente non ha toccato soltanto il mondo dello sport. Appunto navigare a vista secondo il tuo parere quali sono i primi obiettivi da raggiungere per far ripartire la macchina dello sport la macchina boccistica anche in regione Lombardia? L'obiettivo è stare vicino a tutte le società cosa vuol dire? Dare a tutte le società un supporto totale noi iniziamo se non so se tu hai letto anche il nostro programma quando abbiamo l'opportunità inizieremo anche a creare e a fare anche dei corsi formativi per dirigenti societari io non dico solamente questo supporto ma anche un supporto pratico per organizzare manifestazioni e la cosa più importante e non l'ultima è molto importante portare le persone all'interno di questa all'interno delle bocciofile per riprendere a giocare ecco certo dicevamo infatti riprendere a giocare e attirare anche un pubblico nuovo soprattutto i giovani dato che questo è sempre un po' il problema del mondo delle bocce riuscire ad attirare bambini e ragazzi certo guarda per i giovani per i giovani noi abbiamo già iniziato tieni conto che il gruppo di Moreno Volpi è già più di un anno che sta lavorando su dei progetti infatti è in fase di realizzazione un progetto a Salò proprio per i giovani nella bocciofile di Salò uno ci doveva essere nella provincia di Varese uno a Milano purtroppo li abbiamo sospesi non annullati assolutamente non ci fermeremo quando ci saranno tempi migliori riprenderemo sicuramente quei progetti per i giovani perché la cosa più importante che mi preme di dire è un progetto che a noi è molto caro perché l'abbiamo denominato al cauramico Gianfranco Bazzan che lui era molto ma molto vicino ai giovani certo quindi appunto riavvicinare i giovani e rendere anche le strutture più accessibili quindi pensiamo al ruolo del consorzio Bocce Lombardia che consente proprio di ripristinare le strutture di rendere accessibili ai disabili e renderle più moderne anche questo è molto importante certo ma il consorzio Bocce Lombardia nella persona del suo presidente Bruno Casarini anche lui candidato negli affiliati del gruppo di Moreno Volpi è molto molto importante abbiamo già attuato e ci sono già delle bocciofile che hanno istituito hanno istituito veramente purtroppo siamo bloccati però hanno istituito veramente delle manifestazioni per far entrare anche i disabili i disabili in carrozzina abbiamo già organizzato una manifestazione in quel piccolo periodo di apertura abbiamo organizzato una manifestazione molto bella con disabili in carrozzina e normodotati quella è la strada la strada giusta tengo a precisare la disabilità è un mondo molto particolare e molto ampio non è solamente la disabilità in carrozzina ma anche la disabilità intellettiva relazionale ci sono delle società che hanno degli atleti tesserati e hanno ce ne sono e sono un bel gruppo avevamo già in progetto abbiamo già fatto un paio di riunioni che come si apre organizzeremo per questi ragazzi una bella manifestazione certo quindi insomma tanti gli obiettivi soprattutto la ripartenza cercando di coinvolgere tutti quindi chi già gioca e chi deve essere avvicinato a questa disciplina Deborah non ci dimentichiamo anche della boccia che la boccia è lo stesso una parte della federazione molto importante e anche lì abbiamo un nostro candidato Mauro Perrone certo insomma tanti progetti in bocca al lupo ovviamente per le lezioni che sono ormai vicinissime come dicevo poco fa anche a Marco Bugiardino ci risentiremo poi dopo le lezioni per discutere un po' dei risultati per iniziare a parlare di quello che accadrà intanto ovviamente in bocca al lupo molto volentieri ci sentiamo ti volevo ringraziare anche per lo spazio che date già da molto tempo allo Sport Boce grazie a te e grazie a tutta la rete 55 grazie mille grazie a te grazie ovviamente a voi da casa e come sempre alla prossima puntata di Bocce Forum arrivederci grazie a te